Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ricandidato alle prossime amministrative, ha presentato l'accordo elettorale che vedrà il Movimento 5 Stelle appoggiare il sindaco uscente. Visione comune e continuità sono stati questi i punti fondamentali al centro dell'accordo politico. Si sviluppa un progetto civico-politico per Teramo Città Capoluogo che continua ad essere un laboratorio con potenzialità inclusive, espansive, che ovviamente diventa sempre di più modello anche per altri livelli istituzionali, penso a livello regionale e ovviamente guarda con attenzione anche alle azioni comuni che tutte le opposizioni a livello nazionale stanno mettendo in atto nei confronti del governo. Quindi c'è una progettualità che consente veramente di guardare al futuro con grande speranza e fiducia in un momento in cui la città sta rinascendo il contributo del Movimento 5 Stelle al progetto civico-politico che guarda i prossimi cinque anni e guarda a rendere Teramo sempre più forte a livello regionale e ovviamente è un segno assolutamente di straordinaria positività. Una sinergia ampiamente nell'area da tempo ma adesso l'intesa con i 5 Stelle è stata ufficialmente formalizzata. Per la consigliera Pina Ciamariconi che ricordiamo nei cinque anni di amministrazione d'Alberto è stata nei banchi dell'opposizione, si tratta di un'intesa naturale anche per il lavoro portato avanti dal sindaco uscente. Nel corso degli anni avevamo già dei punti in comune nelle scorse amministrative però ci eravamo presentati ai cittadini divisi con il nostro candidato sindaco quindi per coerenza siamo rimasti dove dovevamo stare. Adesso invece sono cambiate le posizioni sia a livello nazionale quindi noi sposiamo le posizioni che ci sono dettate dal nazionale e adesso abbiamo avuto una serie di interlocuzioni ultimamente per cui ai cittadini onestamente e con tanta trasparenza diremo con oggi che appoggiamo il sindaco Gian Guido d'Alberto.